Riprende il nostro viaggio in giro per il mondo alla scoperta di edifici bellissimi e particolari. La lista si allunga con costruzioni sempre più speciali e anche sostenibili. Oggi vediamo insieme l'edificio sferico più grande del mondo, di fresca inaugurazione. Si tratta della sfera di Las Vegas, un auditorium di 18.600 posti caratterizzato principalmente da LED, sia nel suo interno, dove ci sarebbe anche lo schermo più grande del mondo, che misura 15.000 metri quadri e con la più alta risoluzione mai vista, sia in esterno. Il tetto della cupola è costituito da 3.000 tonnellate di acciaio e 4.600 metri cubi di calcestrutto e la cupola è ricoperta da un'esosfera esterna costituita interamente da pannelli luminosi a LED. Chissà se i rivestimenti a LED, magari fotovoltaici, diventeranno di uso comune in futuro anche da noi e anche negli edifici privati. Non solo per modificarne colori e luci, ma anche e soprattutto per autoprodurre energia ed essere quindi sostenibili.